Ciao, sono Stefano Colarelli, uno dei formatori del progetto Syncrovestina. Questo progetto si focalizza sul contrasto alla povertà educativa nel territorio vestino e uno degli aspetti che cura è quello del rafforzamento delle competenze STEM attraverso percorsi di formazione. STEM è un acronimo che rappresenta quattro ambiti disciplinari scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Ambiti importanti non solo per una questione di opportunità lavorative, ma per essere cittadini consapevoli dell'ambiente in cui viviamo. Questo non sarà un corso di costruzione di robot, coding di applicazioni, ma lavoreremo unendo le STEM in ambiti umanistici, nella valorizzazione del territorio, educazione civica ed educazione alla sensorialità, con un approccio pratico e laboratoriale. Tre sono i percorsi che ti proponiamo. Il percorso principale, Istoria, è un laboratorio didattico pratico di 30 ore. Durante il percorso realizzeremo insieme un'audioguida tattile su un monumento del territorio vestino. Ma che cos'è esattamente un'audioguida tattile? È una stampa 3D in scala di un edificio o un luogo culturale, arricchita da sensori tattili neri che, al tocco, attivano contenuti audio. Immagina, gli studenti esplorano e studiano il monumento. Selezionano gli aspetti storico-artistici più significativi, creando testi accattivanti per ogni elemento. Si cimentano nella lettura d'altavoce, registrando le voci per l'audioguida. Poi, attraverso la progettazione in 3D, disegnano e riflettono sull'architettura. Infine, passano alla stampa 3D, integrando le componenti tecnologiche per rendere il dispositivo interattivo e parlante. In un percorso del genere si affronta quindi il tema della disabilità visiva, ma anche l'importanza del senso del tatto. Abbiamo portato in classe le testimonianze di utenti non vedenti e associazioni che si occupano di persone cieche. Oltre alle 30 ore di formazione che faremo insieme, ti offriremo un tutoraggio per l'anno successivo, che è rivolto a tutti quelli che vogliono realizzare con la propria classe un dispositivo tattile. E tutti i lavori realizzati in questo modo confluiranno all'interno di un allestimento museale, un museo tattile-vestino, che è uno degli obiettivi del progetto Syncro Vestina e personalmente è una delle cose che più mi entusiasma di tutto questo lavoro. Il secondo percorso è legato all'utilizzo di carta e immagini, sempre in chiave STEM, e te lo presenterà Emanuela di Case di Fotografia. Ciao, sono Emanuela Amadio. Mi occupo di didattica fotografica ed educazione digitale. Il corso di formazione Plotter da Taglio e Fotografia è pensato per tutti quei docenti che desiderano acquisire delle competenze di base su uno degli strumenti più diffusi nelle scuole, il Plotter da Taglio. Il corso è articolato in sette incontri di tre ore ciascuno, durante i quali scopriremo le principali funzionalità di Silhouette Cameo. Impareremo a utilizzare i software Silhouette Studio e Canva per realizzare degli esercizi pratici, in cui creare decorazioni per le aule e materiali didattici ed elementi per allestire una mostra fotografica interdisciplinare. Nelle lezioni conclusive i docenti saranno impegnati nella preparazione di un'attività da sperimentare con la propria classe, mettendo in pratica le competenze acquisite durante il corso. Se desideri maggiori informazioni sul programma, scrivimi a questo indirizzo mail. Il terzo percorso è incentrato su stampa 3D ed elettronica programmabile. Acquisirai padronanza nell'uso della stampante 3D, anche se non hai esperienze pregresse nell'ambito della stampa o della modellazione 3D. Le attività legate alla stampa 3D sono quelle che affascinano immediatamente gli studenti. Credo non solo per la novità tecnologica, ma anche per quel senso di magia nel trasformare semplici idee in oggetti. Non so, è come creare qualcosa dalla purezza delle idee, una sorta di fucina di epesto. Imparerai ad integrare questi strumenti nelle tue attività didattiche, ma anche a costruire oggetti educativi. Ad esempio, potrai applicare queste competenze in attività di sostegno per realizzare oggetti personalizzati sul tuo specifico alunno e sulle sue esigenze speciali. Se sei arrivata o arrivato fin qui, intanto grazie per il tempo che hai dedicato a questa presentazione. Se qualcosa di quello che hai ascoltato o visto ti ha catturato o incuriosito, questa esperienza può fare a caso tuo e può riservarti belle opportunità. Il nostro impegno è quello di garantirti un'esperienza pratica, significativa e concreta, integrabile con le tue attività didattiche e curricolari. Ti auguro una giornata piena di ispirazione e scoperta e ancora grazie.